Questa mattina l'associazione culturale Big Match ha presentato l'iniziativa aspettando il 1 maggio, giunto alla sua settima edizione in programma Teramo sabato 30 aprile con la presenza di numerosi artisti a livello nazionale che si esibiranno presso l'area ex Villeroi. C'è un ritorno ovviamente, sarà quello della banda Bardot, ovviamente c'è una motivazione a questo in quanto la banda farà uscire il 3 maggio il nuovo CD quindi ci sarà un'anteprima della presentazione di alcuni band del nuovo CD, poi ci sarà la presenza degli African United che è la prima volta che vengono al 30 aprile aspettando il 1 maggio, il 30 aprile a Teramo e poi ci saranno i Lina 77 anche loro la prima volta che vengono a suonare il 30 aprile, Eddie Velvet ed infine diciamo che secondo me è una presenza significativa quella di Filippo Graziani che canta Ivan Graziani ovvero il padre. Soprattutto perché il cantatore italiano scomparso è teramano tutti gli effetti e secondo me sarà una presenza significativa e soprattutto molto molto emozionante. La novità di quest'anno sarà anche il fatto che ci saranno degli allestimenti enogastrenomici un villaggio nel quale ci sarà anche la presenza di un DJ che li accompagnerà con sottofondo musicale. È una cosa nuova e soprattutto la cosa più importante è il prezzo del biglietto che è rimasto invariato rispetto alle precedenti edizioni. All'appuntamento del 30 aprile è legato anche un altro grande evento. Il 3 e 4 maggio sarà a Teramo la giornalista Lorela Zanardo che presenterà il libro Il corpo delle donne. Nato come documentario e trasferito anche in forma scritta conseguentemente al grande successo riscontrato. Un vero e proprio prodotto culturale che analizza criticamente il ruolo della donna visto con gli occhi dei media. Quindi dare una nuova visione oltre quella stereotipata che purtroppo nonostante siamo nel 2000 continua ad accompagnare le donne all'interno della televisione e dei mass media in generale. La Zanardo farà un incontro il 3 con la cittadinanza il 3 maggio presso il Multisala Smeraldo alle 21 in cui presenterà il documentario, ne racconterà la Genesi e presenterà anche il successivo libro. E il 4 maggio invece all'università nella Facoltà di Scienze della Comunicazione alle 10 e 30. All'incontro ci sarà anche una troupe della TV francese, TV France 5, che sta realizzando un documentario sulla situazione culturale italiana.